Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPL, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Si ricorda che è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze. In direzione Pisa, code sul bivio A1-A11 provenendo da Roma e da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. In A1 in direzione Roma, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico, La Quercia e Badia, code tra Aglio e Calenzano, Sesto Fiorentino e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!